John Porno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Come sapete la stagione 20-21 sta per finire tra pochi giorni, cioè tra il 20 settembre E ovviamente il pallone della Serie A Nike è uscito e somiglia a questo Guardate un attimo Sì, quello lì mi piace tanto e secondo me è un bel pallone E quindi lo andremo a comprare oggi, ok andiamo a comprarlo Ok, e questo qui, non so se si vede ma è questo qui, è già la pagina Amazon E niente, andiamo a comprarlo allora, aggiungo il carrello Da giorno quando l'ho comprato Bene raga, l'ho ordinato, compriamo le mie informazioni private ma ecco qui scritto Grazie, il tuo ordine è stato ricevuto Arriverà tra qualche giorno, ci aggiorniamo quando è arrivata tra qualche giorno Andiamo quando c'è l'unboxing Bene raga, sono passati praticamente due o tre giorni dal giorno dell'ordinazione E mi è stato appena spedito Arriverà tra il 9 e 11 settembre Vi aggiorno nella prossima scena quando andrò a ritirarlo e poi lo spacchettiamo Alla prossima scena che sarà tra qualche giorno L'11 settembre farò l'ultima scena, ma andiamo all'11 settembre e andiamo a spacchettarlo Andiamo Raga, finalmente siamo tipo 3-4 giorni dopo l'ultima clip e finalmente mi è arrivato Ho già tagliato lo scotch con un coltello Andiamo a vedere che cosa veramente mi è arrivato Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere C'è una busta qua Lo scadro, mettiamo per terra E vediamo cosa mi è arrivato Wow E' bellissimo Pallone della Serie A Ovviamente, Serie A Team 2020-21 Scritto da qualche parte Ecco qua 2020-21 E' un bellissimo pallone Anche se è molto liscio Praticamente se lo tiro a un portiere Ma fa come ha fatto Carius Che praticamente Fai così E si scappa E vai in porto Oppure fai in calcio d'angolo Però Diciamo che E' abbastanza bello Appena l'ho visto Devo dire la verità Ho pensato che questo qua Mi ricordava Un pallone gonfiabile Che compri da un euro Dai cinese Avete presente? Però Guardandolo meglio Dal vivo Diciamo che è abbastanza bello Comunque Se volete Se volete comprarvelo voi Vi lascio il link in descrizione Di Amazon Dove l'ho comprato E se volete Comprarvelo Per voi stessi Comunque Diciamo che è abbastanza bello Ha questa Cosa gialla qua Che va Praticamente Così Così E poi Lo stemma Nike Ha queste Lignette Bianche Sul blu E poi Tiene Un'altra Corsetta bianca E per finire Qua è scritto 2020 21 Serie A Diciamo che E' abbastanza bello Lo riesco a prendere E' bellissimo Niente Gli do Un vuoto Di 8 su 10 Potevano fare meglio Il tessuto Perché è molto Liscio Quindi può Cadere Especialmente Quando i portieri Vanno a piegare In mezzo Così Praticamente Può cadere Però 8 su 10 E' abbastanza bello Comunque Il video Si muore qui Grazie Guardato Porto io sempre Questo pallone Speriamo Che segneremo Vinceremo Il nostro Decimo titolo Consecutivo Ciao Porto io sempre